Andrea, c'è stata un po' di tensione oggi sugli spalti, questi cori alla fine del primo tempo nei confronti del presidente Sebastiani e del tecnico Zeman, ma ti chiedo anche un'altra cosa perché se ne è parlato anche in conferenza stampa di questa visita dei tifosi oggi pomeriggio in ritiro. Vogliamo un attimo raccontare che cosa è accaduto? Ma è una cosa normale perché comunque siamo andati giustamente i più grandi anche perché comunque detta fra di noi è una squadra molto giovane e ha bisogno di non avere troppe pressioni. Mi ricordo che quando ero giovane anch'io i più esperti comunque si sobbarcavano, anche i più vecchietti proprio di età, si sobbarcavano certe responsabilità in più ed è giusto così. Abbiamo avuto un colloquio tranquillissimo quindi non è successo niente di che ci sta perché comunque veniamo da un anno pesantissimo, un anno che ha dato noia e fastidio a tutti e comunque non è stato bello. Soprattutto quelli che sono rimasti qua dall'anno scorso, dall'annata disastrosa dell'anno scorso vogliono cercare di rimettersi in pista come giusto che sia e come merita la piazza perché come dissi anche l'anno scorso è una piazza che comunque abbiamo visto tutti. Io ho avuto la fortuna anche di vederla, purtroppo mi ero fatto male quando sono arrivato a febbraio ma ho avuto la gioia di festeggiare con Mr. Odd e tutti. Abbiamo visto 150.000 persone da Montesilvano a Piazza della Stazione. È normale che è una piazza che esige tanto ed è giusto così ed è giusto che come dissi anche l'anno scorso e tante volte anche all'inizio di quest'anno, l'anno scorso nonostante avessimo fatto un campionato veramente disastroso c'erano 13-14.000 persone allo stadio, quindi abbiamo visto anche ai playoff che siamo riusciti a portare 18-20.000 persone e quindi è giusto così, nel senso che comunque è un momento delicato, venivamo da due vittorie e due sconfitte, è un po' altanenante, è giusto che comunque come ho detto prima ci sia una responsabilità da parte anche dei più grandi, ma quello c'è perché comunque i ragazzi giovani sono bravi però è anche vero che non bisogna sopparcarli di troppo carico ed è giusto così che siamo andati noi. Ti chiedo un'ultima cosa da parte mia Andrea, quanto va sottolineata l'importanza di questo pareggio? Perché non ci dimentichiamo che è arrivata contro una grossa squadra e nel secondo tempo il Pescara ha fatto questo piccolo salto di qualità, quindi diciamo ripartire da questo anticipo per iniziare oggi il campionato? Certo, sicuramente come ho detto prima, avevamo iniziato alla grande la partita, siamo trovati 1-0 subito, quindi poi come ho detto prima in due occasioni che tra virgolette non si sono inventati nulla di che come purtroppo ci capita spesso, siamo andati addirittura sotto e nel secondo tempo ce la siamo giocata anche se secondo me abbiamo avuto qualche pallacolo in più e ci è mancato il 3-2.